bello che ti ragazzi sono Fatto il nuovo video, oggi siamo qui con SkillsSK, mio fratello facciamo uno contro uno, vediamo come va la partita eh questa è un'altra arma è un'altra arma è un'altra arma devi arrivare che ne fa tanto eh tu sei abituato alla tua classe guarda 5 di me guarda 5 di me ah cazzo, mi stavo cagando a te, pensavo volendo rirgli ah cazzo, mi stavo ah cazzo, mi stavo mi stavo, mi stavo nooo oddio oddio sai che mi sono detto dove cazzo è andato porca puttana, mi trovo qui, stavo in panico ah cazzo, mi stavo ah cazzo, mi stavo ah cazzo, mi stavo ah ah cazzo, mi stavo ah cazzo, mi stavo ah cazzo, mi stavo 2 e 4 con lo dicevo, cazzo. Il progetto è comunque secondo me la vera non può fare. Gigi Margaret de Vela, ti sentivo le tue fatti? Scusate, che cazzo è? Scusate, che cazzo è? La troia! Merda! Bastardo! Scusate, che cazzo! Scusate, che cazzo è? 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 Quindi, bella ragazzi!